rispetto alle altre volte la differenza è sostanziale fate salvo tutte le regole che restano uguali e per la prima volta ne accendiamo dove ci sono i cartelli di tecnica parallela obbligatoria che sia assenata a 2, a 3 o a 4 indipendentemente tutti, compresi gli sprinter procedono in tecnica parallela almeno con la classica a 3 un minuto è la partenza sono i 17 punti di controllo su mezzo 12 a partire 10 secondi in via 5, 4, 3, 2, 1, via 6, 4, 3, 2, 1, via 6, 4, 3, 2, 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 via 6, 4, 3, 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 via 6, 5, via 6, via 10, via 7, via 6, via Noi aspettiamo a Maser, il 7 settembre, ciao! Noi aspettiamo a Maser.